Perchè stai atterrando? Eh perchè è 200 metri Ma io voglio fare poi le versioni dall'alto Ah scusate No vabbè ormai stai qua Vai salgo ragazzi Aiaa Perché mi sei atterrato con un'elicottero in testa? Sono qui sotto io Mi sei atterrato in testa con un'elicottero Ah sei morto! E' certo che sono morto Quando avete detto scendiamo E sono sceso E poi tu sei ripartito E mi sei atterrato in testa con un'elicottero Schiacciandomi Se vi è cercato qualcosa? Sì sì ma se dall'alto Ne vedete degli altri Io poi non vedo nessuno tra adesso Sembra che non ci sia nessuno O perchè non possiamo taggare dall'aereo Dall'elicottero Due io li ho cercati Stai fermo qua secondo l'alto Non ti muove Fetti l'elicottero fermo Perchè io ne vedo un po' davanti Che però Qui sotto C'erano due ma non mi pare che ci sia nessun altro Boh atterriamo Atterra Atterrate e vedete se è riuscito a taggare qualcuno da lì Noi Indagare Abbiamo Trova medaglie bonus Oppure Trova operazioni ribelli Ah siete già lì voi Siete partito a fuoco In pratica questi punti esclamativi ci servono unicamente Per trovare altri punti Adesso ce n'è una Attivo e difendi radio ribella Andiamo a quella lì Esatto quella la Quella dei punti abilità Siamo morti sempre lo sai Perché sta guidando oppure Non ce la facciamo Io vedo attiva e difendi radio ribelle Anche io esatto Vediamo di atterrare in una maniera Sui fili della corrente Sui fili della corrente Aspetta sotto lì però ci sono quelli di viola E attenzione Si sono forti quelli C'è uno spazio un po' più isolato Dobbiamo prendere la larga Non ti devi mettere troppo sopra No perché io per esempio non riesco a sparare da sopra Metto così qua Qua va bene Basta un pelino Eh no non vedo niente da qua Dobbiamo scendere per la porta Ah questa è con noi Si Guarda Questo è con noi Eccola qua Adesso dobbiamo difendere la radio Ah perché stanno arrivando i nemici adesso Arrivano tanti Qua c'è un tv che dorme Un tv che dorme Un tv che dorme Un tv che dorme Tra un po' dorme per sempre mi sa Quindi possiamo riprenderci la nostra terra Quindi arrivano Eh sì Cazzo 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 Ci siamo Guardi qua Guardi qua Però prima avrei dovuto trovare una posizione Se dobbiamo morire Facciamolo A testa alta Cazzo 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 Alzate la testa Quindi non arriveranno ancora E ribellate agli oppressori Prima che sia troppo tardi Il trucco era coprire le strade Perché arrivano da sotto Arrivano anche da sopra Trampo finisce il messaggio Abbiamo compito il nostro dovere È troppo chiedere di far crescere i nostri figli In un mondo dove i colpi di pistola Non gli svegliano ogni notte Ma va là I secondi sai che non li vedo? Ok Ma va là Si Si Ma io Che figata Ha scoperto una cosa strafiga Abbiamo l'artiglieria anche Si Abbiamo sbloccato il supporto ribelle Ma avete visto che col tasto TAB Si Ok Eh E quello che ho scoperto io adesso Ah scusate 4 momenti Arrivano la gente Noto Era tipo un concerto di Gigi D'Alessio Vai giù, vai giù tu Scopiatoia Vai giù il pulrone No perché poi ci disfiamano già la macchina Tanto non è nostra Va beh come volete Guarda Mi sono anche se nel paura, questa che è comfort Comfort di guida Alessio questa è una Sumitsu Che è un miscoglio tra Subaru e... Faccio un'altra missione Faccio un'altra missione Fatto qua sopra Vedi sembra che sei morto qua apposta No eh Quindi non facciamo questa che è qua vicino no No Va bene E quella con la cartella dici Con la 180 Si Questa qua Questa qua Questa qua sopra giallina Ma usalo il fermo male Questa è un nemico Eh Si che sono nemici Qualcuno fa partire il drone così Faccio io Faccio io E' dentro ragazzi Sono dentro Uno è qua E' un altro E' dentro il tizio Sta tailando Arcanageria Ok ma sono cazzo Eeeh Sta scappando adesso Adesso di te Dietro la macchina Dietro la macchina Dove vai? Dietro di te Oh bravo C'è un altro dietro in casa Sopra? Sopra Vieni a salvarci prima Ah voi siete morti Cazzo non ci ho fatto caso Scusate Morca la vecchietta Ma sei scema Ma intenzione di lasciarmi di sangue Non ci abbiamo detto questo Sono solo se c'è un ingresso Due le armi Non dobbiamo spaventare questa gente Ma no Cosa? Che cazzo ha sparato? Io Ma non dobbiamo sparargli a questo Ma si che doveva sparargli No Ma si è questo che dobbiamo cercare La sua auto sportiva Così potremmo mettere le mani sul suo gps E quindi Il tizio con la i Con la i Con la i Non è mai da sparare Perché mi dà informazioni Ah lui? Eh si Io puntavo qua al computer La io non l'avevo ancora vista Porca troia Qui dove stiamo andando? Boh Io seguo la linea bianca Per terra Noi siamo già morti Ho capito Ehm Obscur No Obscur Si che stai a guidare No no Ruba l'elicottero Proviamo rubare l'elicottero Bisogna secondare Ma se che tu Obscur stai guidando eh Ma va io Si Ah va Lo vedo io Ma vedi la verde Obscur? No Ciao 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 Ma come scappa quello davanti? Paura eh? Ahahahah Ahahah Ahahah Ma Dobbiamo prendere la macchina verde praticamente No Si Questa qua La macchina è davanti no? No no la freccia qua arriva qua Questa è un bel elicottero Oh che figo Il drone lo posso lanciare anche dalla macchina Lo sai? Ecco qua l'elicottero Si traccheggio qua Si scende a piedi Fate partire il drone così io vado di Vado io che Dov'è il nemico? C'è uno qua C'è uno qua Vado avanti lo vedi? C'è uno qua Lo vedi? C'è uno qua Lo vedi? Eh no Se non me li segnate Si si è segnato Io l'ho marcato Davvero l'hai mancato Eh si Ma che va scappando? Stiamo prendendo l'elicottero Se non sai uno sull'elicottero Spare il tuo pilota Il tuo pilota Con questo fallimento direi che è il caso di Il giorno qui Si ripenso anch'io Ucciso un civile Non è una missione testa di cazzo Mi hanno dato della testa di cazzo lo sai Eeeeeeeh Chi è stato? Io io Beh direi che non è male Come mai no Il gioco mi piace Bisogna trovare i personaggi giusti con cui giocare Si è vero Si chiama intelligenza artificiale Allora Bisogna trovare le persone giuste Fatto Come siamo messi Si sta rendendo conto che è un disastro Allora 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 Allora